Sono allenamenti intensi quelli a cui si sta sottoponendo il Messina in vista della stracittadina di domenica con il città di Messina. Il ritorno in campo dopo il giorno di stop imposto dai funerali di Pippo Sciotto è avvenuto con grande concentrazione. Al citiaco e i compagni sanno che con un successo potrebbero già chiudere il discorso salvezza, distanziando i rivali di cittadini di sette lunghezze. Per questo, Biagioni e lo staff tecnico stanno lavorando duramente anche sulla testa dei ragazzi, desiderosi di non lasciare nulla al caso dopo l'esaltante ultimo mese vissuto tra campionate e coppa. Di fronte però ci sarà un città di Messina che vuole scrollarsi di tosse i primi negativi mesi di questo 2019 che hanno portato in dota la sola vittoria interna con la San Cataldese. Un ruolino di marcia spiegabile solo in parte con i problemi fisici accusati da giocatori chiave e che due settimane fa ha portato all'esonero di Furnari. Il neotecnico Viola conosce l'importanza di gare senza un domani come questa e sta lavorando sodo su schemi e movimenti nuovi legati al 4-3-3. In città di Messina ritroverà Fra Gapane, Di Vincenzo e i portieri Landi e Paterniti mentre resta in forza Gangemi il cui rientro dovrebbe srittare di una settimana. Ci sarà invece Peppe Costa al rientro dopo i tre turni di squalifiche imposti dal giudice sportivo.